Buonasera, se siete pronti incominciamo. Buonasera, innanzitutto abbiamo avuto una serie di riunioni operative e quindi il punto lo facciamo oggi e da oggi lo faremo ogni sera alle 18 perché così anche durante la giornata avremo modo di fare le altre attività. Per quanto riguarda i numeri vi do lettura delle persone che sono ammalate da coronavirus nel nostro paese a questa sera alle 17 sulla base dei dati che sono stati comunicati dalle regioni. Le persone ammalate sono in totale 821 a cui si aggiungono 46 guariti e 21 deceduti. Allora sui deceduti voglio precisare come voi già sapete che si tratta di persone che sono decedute, innanzitutto quelle che sono decedute oggi sono tre ultraottantenni e un ultra settantasettenne, non sono deceduti per il coronavirus o meglio non sappiamo ancora se sono deceduti in conseguenza del coronavirus. Questo è un lavoro che farà l'Istituto Superiore di Sanità e quando avrà i dati poi ci certificherà anche il numero dei deceduti in conseguenza del coronavirus. Il dato importante che ritengo di comunicare a fronte di questo numero di 821 persone che sono affette dal coronavirus e che la metà, 412, sono persone che sono asintomatiche o con sintomi lievissimi, talmente lievi che non hanno bisogno di ospedalizzazione e quindi sono in isolamento domiciliare fiduciario. Abbiamo poi un totale di 345 persone che sono ricoverate negli ospedali con sintomi e 64 i ricoverati con terapia intensiva, in terapia intensiva. Quindi rispetto a ieri un incremento di 8 unità. sostanzialmente questo quadro che abbiamo rappresentato è gestito dai servizi sanitari delle regioni senza criticità e quindi non abbiamo profili da evidenziare di criticità sotto il profilo sanitario anche in termini di assistenza alla popolazione prosegue regolarmente la vita nelle zone rosse, nelle due zone rosse. Anzi voglio ricordare che come voi avrete anche saputo da lanci di agenzia riapriranno le poste il 2 marzo nella zona rossa, in alcuni comuni della zona rossa, quindi saranno regolarmente pagate le pensioni e la vita proseguirà regolarmente in quelle zone. Altre notizie degne di rilievo sono quelle relative a due ordinanze che ho firmato. Una l'ho firmata ieri sera tardi ed era una ordinanza per la quale poi adesso darò subito dopo il mio intervento al presidente dell'istituto superiore di sanità professor Silvio Brusaferro che ringrazio ancora oggi di essere qui accanto a me nella conferenza stampa per l'affidamento al suo istituto della sorveglianza epidemiologica poi lui ci spiegherà nel dettaglio in che cosa si realizza. Un'altra importante ordinanza firmata questa mattina riguarda il potenziamento dei dispositivi di ventilazione per i nostri ospedali. Si tratta di un piano di potenziamento di questi dispositivi che permetterà di fronteggiare le eventuali esigenze con un sistema potenziato. L'ultima cosa si sta lavorando, lo sapete il Governo sta lavorando ad un decreto legge, questa sera ci sarà il Consiglio dei Ministri, sul tema economico e su tutta una serie di temi che sono di pressante esigenza e attualità e si sta lavorando anche ad un DPCM che in qualche modo andrà a ridisegnare le misure nei territori regionali in vista della scadenza delle ordinanze matate a doppia firma dal Ministro della Salute e dai Presidenti di Regioni Interessate. Io darei subito la parola al Professor Brusaferro per spiegarci il contenuto di questa ordinanza e se vuole mettersi qui forse è meglio. Grazie, buonasera a tutti. Uno degli elementi importanti nella gestione di questi eventi è avere anche un flusso informativo omogeneo standardizzato che contenga elementi certamente quantitativi ma anche elementi qualitativi. Questo serve ovviamente per una gestione appropriata ed efficace degli eventi epidemici come quello che stiamo vivendo, serve anche nei nostri rapporti internazionali e per condividere con gli analoghi dei paesi vicini e con la comunità internazionale le conoscenze di modo che tutti possiamo progredire nella conoscenza per prevenire e controllare questa infezione. Alla luce di questa premessa l'ordinanza di ieri affida all'Istituto Superiore di Sanità la sorveglianza epidemiologica di questa infezione, ovviamente con il prezioso e fondamentale collaborazione con le Regioni, in particolare con tutte le Regioni coinvolte, con le quali stiamo condividendo in queste ore i database in maniera da avere informazioni standardizzate. Accanto e quindi ci proponiamo a breve di poter produrre dei report con dei dati standardizzati omogenei per tutte le Regioni. Il secondo elemento dell'ordinanza prevede anche il coordinamento della sorveglianza microbiologica che vuol dire che oltre ai test di conferma si raccolgono anche tutte le informazioni specifiche sul virus circolante e anche questa è una preziosa informazione che aiuta a capire la dinamica dell'infezione e aiuta anche a cogliere le opportunità per controllarla. Infine nella stessa ordinanza si prevede anche il completamento di questa serie di dati con dati di tipo clinico perché anche la comprensione di come evolvono le patologie e delle caratteristiche cliniche è preziosissima per tutti i sanitari del nostro Paese ma anche per la comunità internazionale. Infine credo sia importante sottolineare questo sarà un database aperto a tutti i protagonisti quindi Regioni coordinato dall'Istituto e la parte clinica coordinata dall'Istituto Nazionale per il controllo delle malattie infettive Lazzaro Spallanzani ma anche ci consentirà di interfacciarci con le organizzazioni internazionali come il Centro Europeo per il controllo delle malattie e come l'Organizzazione Mondiale della Sanità con la quale in questi giorni abbiamo condiviso tutte le informazioni ma anche le modalità per interagire. Confidiamo che questo passo aiuti ulteriormente il nostro Paese e la comunità internazionale ad affrontare efficacemente questa epidemia. Grazie. Come al solito due o tre domande. Prego. Arriva arriva col microfono. Francesca Ronchin, la 7. Un chiarimento su questa discrepanza di numeri che ci sono tra Protezione Civile e Istituto Superiore della Sanità anche ieri era una differenza di 300 casi di Fadba, 650 protezione civile, 282 di una preconferenza diciamo dell'Istituto Superiore della Sanità e oggi siamo in attesa di sapere quali saranno i dati dell'Istituto Superiore della Sanità appunto. Come mai questo discrepanza? Allora, le spiego. Forse non mi sono spiegato bene ieri sera ma lo ripeto ancora una volta. Il dato che comunica la protezione civile è il dato che noi riceviamo dei test validati dalle regioni e dal primo giorno per non nascondere alcuna informazione noi abbiamo dato il dato delle regioni e da qualche giorno che noi disponiamo anche del dato dell'Istituto Superiore di Sanità che a oggi alle 17, mi corregga se sbaglio il professor Brusaferro, ha analizzato, riscontrato 383 casi positivi su 383 casi esaminati. È evidente che l'Istituto Superiore di Sanità riceve i campioni una volta che sono stati dichiarati e accertati positivi dalle regioni devono partire, arrivare a Roma, devono essere processati. C'è un numero di campioni che arrivano, c'è un potenziale di analisi che è dato e quindi pian piano arrivano le conferme. Quello che a me interessa e credo che interessi anche al professor Brusaferro è che avendo riscontrato 383 casi positivi su 383 se analizzati e dichiarati positivi dalle regioni, quello che possiamo affermare è che i laboratori che sono presenti a livello regionale stanno facendo un lavoro corretto, conforme e coerente con quelle che sono le indicazioni metodologiche per condurre l'accertamento della presenza del coronavirus nei pazienti. Quindi spero che su questo si possa fare chiarezza una volta per tutte. Per tutte e ripeto è una informazione ancora in più. Tra l'altro ieri abbiamo spiegato ma lo ha detto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità il dato che serve all'Organizzazione Mondiale della Sanità che viene comunicato all'Organizzazione Mondiale della Sanità è quello relativo al dato riscontrato dall'Istituto Superiore di Sanità. è evidente che noi disponiamo dei dati delle regioni, le regioni che comunicano. Se noi venissimo qui e raccontassimo solo il dato dell'Istituto Superiore di Sanità la domanda che verrebbe fatta è ma la regione X o la regione Y cinque minuti fa ha comunicato altri dati? Come vedete noi comunichiamo tutti i dati degli uni e degli altri. L'importante è che i dati sono coerenti. Grazie. Angela Caponnetto, Raios24. Dunque due cose brevi. Lodi, la situazione di Lodi che è stata considerata critica in ospedale perché ci sarebbero troppi pazienti e non c'è posto a contupare per tutti. Quindi prima domanda è veramente così se ci potete dare indicazioni a riguardo. E la seconda domanda da Milano, dalla Lombardia chiedono di prolungare le restrizioni ancora di una settimana per le scuole. Allora sulla prima domanda le confermo. Ieri sera ero al Comitato Operativo alle 19 e 19 e 20 ed è stata segnalata questa esigenza. Soprattutto è stato segnalato che c'erano più di 100 persone in coda in attesa di essere visitate. Nello stesso momento abbiamo sentito i colleghi della Sanità della Regione Lombardia che hanno confermato che avevano già dato disposizione per rinforzare il presidio del pronto soccorso e quindi la situazione stamattina mi è stata confermata che è rientrata nella normalità. Quindi quando ho detto che non ci sono criticità è perché non ci vengono segnalate criticità. È evidente che c'è stata anche un'operazione che si fa normalmente negli ospedali cioè nel momento in cui c'è un sovraffollamento, un eccesso di domande, di richieste in un ospedale si va a potenziare quell'ospedale oppure si spostano pazienti su altri ospedali per fare posto a quelli da ricoverare. Sulle scuole, io l'ho detto prima, si sta lavorando a un DPCM, ha un provvedimento che sarà di nuovo un provvedimento generalizzato per tutte le regioni prevedendo un comportamento uniforme condiviso, concordato con i presidenti di regione sulla base di una valutazione tecnico scientifica di quelli che sono i dati relativi al fenomeno della malattia. Quindi non posso anticipare nulla perché non è al momento definito nulla ma domani, al più tardi domani sera credo dopo domani mattina, avremo tutte le risposte del caso su esercizi pubblici, su scuole, su tutta una serie di attività che oggi sono regolamentate sulla base dell'ordinanza del Ministro della Salute e dei presidenti di regione. Salve, io volevo fare una domanda. Visto che l'Istituto Superiore della Sanità ora fa sorveglianza epidemiologica possono aiutare le regioni a capire se e quando fare ordinanze come quella delle Marche visto le polemiche che ci sono state anche riguardo la regione Marche? Asso, prego. Guardi, la sorveglianza epidemiologica è uno strumento che se col provvedimento viene centralizzata si raccolgono in un'unica base dati, dati omogenei con la collaborazione preziosa di tutte le regioni questo è il presupposto per poter poi valutare quali e quanti provvedimenti adottare quindi il dato è certamente importante, la parte epidemiologica fornisce un dato fornisce un dato quantitativo, fornisce anche un dato qualitativo laddove si possono ricostruire le catene di trasmissioni le scelte poi operative vengono portate su un tavolo appropriato che il Comitato Tecnico Scientifico che fa dei pareri e questi pareri poi vengono tradotti in provvedimenti dal Ministro, dalla Protezione Civile, dal Consiglio dei Ministri e dalle regioni. Altre domande? Chiudiamo qua. No, prego. Altre due domande poi chiudiamo. Tre. C'è anche la sua. Vediamo un po'. Volevo chiedere a Brusaferro se c'è un dato che la colpisce più degli altri vedendo diciamo l'aumento del numero di positivi in confronto all'aumento del numero del numero di positivi gravi diciamo ricoverati in terapia intensiva è in linea oppure c'è diciamo una diminuzione piccola anche diciamo dell'efficacia del virus? Allora lo scenario che noi stiamo valutando e misurando in queste ore è uno scenario che ancora non risente delle misure adottate perché come sapete il tempo che intercorre tra il possibile contatto e poi il momento in cui può manifestarsi l'infezione è un tempo medio di circa una settimana con valori minimi o superiori tant'è che consideriamo 14 giorni sostanzialmente l'arco di tempo diciamo di sicurezza per verificare che non si sia trasmessa l'infezione. Quindi in realtà noi stiamo misurando adesso un fenomeno che si sta evolvendo e nei prossimi giorni valuteremo l'impatto delle misure adottate. Il dato credo che va sottolineato lo ha fatto anche il dottor Borrelli è che dentro questi numeri c'è una buona metà che sono persone positive asintomatiche cioè sono persone che grazie al tampone hanno avuto perché sono state tamponate hanno avuto una o scusate perché hanno effettuato il tampone più correttamente hanno avuto una infezione questa infezione passa in maniera totalmente asintomatica per loro è importantissimo comportarsi in maniera tale da non trasmettere l'infezione ad altri questo è il lavoro più importante ma è anche questo uno dei motivi per cui si raccomandano i tamponi soprattutto i positivi perché comunque tutti i contatti stretti e prolungati di persone positive potenzialmente sono a rischio e necessitano di questa precauzione cioè stare a casa 14 giorni evitando contatti stretti e prolungati con altre persone. Credo che questo dato sia importante perché parliamo di un numero significativo di persone per cui i numeri sono tanti però sono tante le persone con un'infezione e che sono totalmente asintomatiche nei prossimi giorni valuteremo anche quelle che noi chiamiamo paucisintomatico ovvero con sintomi lievi. Sì. Prego. Sulla riapertura delle scuole o musei ci sono alcuni biologici che dicono che c'è un pericolo di fare ripartire l'epidemiologia a questo punto che ne pensa lei su questo momento critico? Allora questa è una discussione molto complessa. Attualmente ci sono vari gruppi che stanno lavorando su modelli, modelli predittivi. Non dimentichiamo che altri paesi dell'Unione Europea stanno cominciando ad affrontare questo tipo di problematica. Mi riferisco in particolare alla Germania, mi riferisco in particolare ai UK. Stiamo valutando questo impatto e credo che la riflessione poi verrà tradotta in un decreto o in un provvedimento legislativo nei prossimi giorni. Grazie. Sì, l'ultima. Buonasera, Giorgia Sodaro a DN Cronos. Solo una precisazione, le quattro vittime quindi di oggi, lei ha detto che devono ancora essere sottoposte ad analisi? No, spiego meglio. Tutte le vittime, anzi lo lascio spiegare, io lo accenno, lo introduco e poi ci pensa il professor Brusaferro. Quello che ci viene detto dai nostri colleghi delle sanità regionali è che si tratta di persone, come avete visto, di un'età elevata e persone che hanno tutta una serie di sintomi e di malattie che erano già pregresse al coronavirus. Quindi il coronavirus è intervenuto in un quadro clinico, come dire, già di per sé complicato. Ora, e qui lascio veramente la parola al presidente Brusaferro, si tratta di fare indagine che farà l'Istituto Superiore di Sanità per capire se la causa della morte è il coronavirus o un'altra cosa, il coronavirus ha avuto effetti o no? Prego professore. Il dottor Borrelli ha già illustrato la situazione, si tratta ovviamente, queste persone purtroppo sono decedute, sono persone il cui quadro clinico conosciamo parzialmente, non a livello regionale ma a livello nazionale, quindi una valutazione è difficile fatta soltanto su dei numeri. Il motivo per cui anche questo tipo di sorveglianza è stato adottato è quella di poter raccogliere questi dati, quindi avere dei dati clinici sulle patologie concomitanti, sulle ragioni del ricovero e sugli elementi che hanno poi determinato il decesso. In base ai dati che oggi abbiamo dalle regioni sappiamo che queste persone sono decedute, che erano portatrici di altre patologie e che erano stati riscontrati positivi per il coronavirus. Elementi ulteriori dobbiamo valutarli e quindi non siamo in grado di essere più precisi. Purtroppo, su questo purtroppo siamo precisi, queste persone sono decedute. Grazie, grazie a tutti.